Buongiorno a tutti, amici, amici di Misterlo Sport e Broglie. Mi chiedo scusa se non ho fatto il video ieri di Napoli-Mila, ma ero fuori casa, quindi la partita non l'ho vista, impegnato nel trofeo Notarangelo, un saluto di organizzato, Antonio Bombace, Bucci, tutti quelli che l'hanno organizzato, e mi hanno chiesto di giocare, poi vedi vedi vinsi, ho giocato e ho vinto, prima partecipazione e subito vittoria, come ho detto Jorgo e Lorenzo quando ho fatto il Gran Pena Virtuale, quindi ieri non ho visto la partita, però poi ho visto gli highlights e ho visto il solito schifo a Gianluigi da Naluma, allora avete rotto i cosiddetti gambasisi, avete scassato tre quarti di Bolz, ogni volta che Gigio prende gol, e prende gol diciamo per una sua errore, è un massacro, è un schifo, andateci voi in porta se siete più capaci, può capitare ogni tanto di fare qualche cappella, qualche errore, noi portieri non siamo perfetti, non è perfetto l'essere umano, ma purtroppo, purtroppo noi portieri quando sbagliamo abbiamo la rete e nessuno ci salva le chiappe quando facciamo un errore, così come quel povero Cristo di Scesni è stato riempito di schifo per un gol che passa tra le gambe e non lo vede partire. Gigio Donna ieri ha fatto due errori, può capitare, ma ha salvato altre quattro occasioni per il Napoli a inizio partita e anche dopo, quindi se non salvava quelle palle era 4-2 Napoli e 0 punti e schifo di classifica, che già fa schifo di suo. Ma a parte questo siamo almeno due dall'Europa League, purtroppo il pareggio di Napoli non serve a nessuno, bello, occasioni da gol e parate, errori, bel gioco, è stata una bella partita, però purtroppo il risultato serve a poco, un punticino guadagnato ma potrebbero essere due punti persi, ma non si può sempre vincere, poi il Napoli è una buona squadra e dal trittico, dal calendario di ferro siamo usciti quasi con 10 punti, frutto delle vittorie con Lazio, Roma, Juventus e ci sta un pareggio con Napoli e anche un po' di stanchezza. Adesso il Milan è atteso dalla prova del 9 con Parma, Bologna e Sassuolo. Se queste partite saranno buone prestazioni e punti possiamo sognare. Un'Europa, anche l'Europa League, basta che si giochi in Europa l'anno prossimo e lo schifo della riammissione del Manchester City è meglio che non parlo perché è una vergogna perché il prefinanziario vale solo per le italiane, aperte e chiusa parentesi, ma non ne parlo perché mi schifo soltanto a parlarne e quindi andiamo avanti. Voglio fare anche in questo video un giudizio sulle nuove maglie perché Andrea Longoni e amico del suo canale Milanello con Nitti e tutto quanto hanno fatto vedere le maglie della prossima stagione. Per me sono meravigliose, soprattutto la prima che a me piace anche quella sorta di ricordo della pavimentazione del Duomo che secondo me un po' di originalità, un po' di diversificazione non guasta. Stracontento delle due strisce verticali doppie, io sono favorevole alle strisce doppie che siano tante o poche, ma basta con quelle maglie con le strisce sottili come quella di quest'anno che non si poteva vedere. A mio avviso è una delle più brutte maglie che abbiamo mai fatto quella di quest'anno, a mio avviso perché non ha soltanto le strisce e basta. Invece così è molto più bella con due strisce verticali e qualche cosa di nuovo come la pavimentazione. A me piace un casino, l'ho già aggiunto a PES, l'ho già aggiunto a PES e gioco solo con quella. Per ciò che concerne quella bianca è un classico tipo Real Madrid, tipo merengue, mi piace un casino. Quella blu ho qualche remora, ma può andare, quindi in grina di massima sono favorevole. Volevo vedere da portiere quella di Gigiodonna dell'anno prossimo, ma purtroppo i portieri non contano una cippa e purtroppo dovrò aspettare che Gigio la indossi l'anno prossimo per togliermi la curiosità. Che quella di quest'anno verde non tanto mi è piaciuta, mi piace ancora quella di Doha del 2016, quella di quest'anno gialla. Vediamo l'anno prossimo che ci aspettano i portieri come divisa, perché quest'anno la divisa più bella dei portieri è quella del Real Madrid, di tipo Courtois tutta oro, tutta gialla, è veramente strepitosa. Quindi io da portiere guardo sempre il mio ruolo. Un'ultima chiosa spero che Zlatan Ibrahimovic riesca a indossare quella maglia nuova prima della fine del campionato, perché se l'anno prossimo va via almeno avremo un ricordo prima che lo schifo di Eliott e Gazzidis lo costega ad andare. Mi schifo, mi indigno della situazione del Milan dove ci sarà l'ennesima rivoluzione quando con questa squadra, con questa base, due o tre innesti, si potrebbe puntare, soprattutto con Stefano Pioli o richiamando Rino Cattuso, si potrebbe puntare allo scudetto. Ma noi siamo degli indegni, siamo degli pazzi, siamo quelli che vogliono andare a prendere un allenatore sconosciuto e che non ha vinto una cippa, quelli che vogliono puntare sui giovani e non vincere un cazzo. Maldini già l'ha detto, non ci sono squadre che puntando sui giovani vincono, perché i campioni, caro Ivan, servono e per questo vai a vedere lo schifo che sta facendo il tuo Arsenal, tanto per essere chiari. Quindi con questo concludo, stasera sto in live con i milanisti del web verso le 10, 10 e mezza e farò altre live nei prossimi giorni. Quindi state accorati perché mister lo sport e blog, forse anche Coccatto, vedremo se ci sarà l'opportunità perché sono una persona sola e quando mi chiamano a giocare chiamano il portiere, quindi ogni tanto mi rimetto i guandi e volo da un palo all'altro, come so fare anch'io, come il grande Gigio che io lancio l'hashtag, io lancio l'hashtag, io sto con Donna Rumma, giù le mani da Gigio perché se continuate a vomitargli schifo, quello prima o poi si rompe le palle e va alla Juventus e poi vi troverete a subire lo schifo, le vergogne e la godura degli Juventini che si godono i miei portieri del mondo perché non apprezziamo i nostri calciatori. Schifato e indignato per chiudere dalle prestazioni paghetta ieri che ho visto che Pioio l'ha tolto per la disperazione e a Salemakers perché l'espulsione si doveva evitare. Ho visto anche dallo zoccolo duro lo strano commento di Caressa e di Canio che dice che il rigore su Buonaventura è dubbio, invece quel rigore è sacro santo. Ci vediamo presto per altri video, per altre cose. Stay tunded con Mr. Lo Sport e Vlogger. Ciao a tutti.